Ciao amici e bentornati su Giugissima. Nel video di oggi farò un update della mia morning routine, quindi della mia routine mattutina, per quanto riguarda l'estate, perché l'ultima volta che vi ho mostrato cosa faccio al mattino era inverno e le mie abitudini sono cambiate abbastanza con l'arrivo dell'estate. Infatti, come sapete, a Copenhagen il sole sorge molto molto presto, quindi c'è molta luce fin dal mattino ed è più facile alzarsi presto, perché poi un po' di luce filtra sempre dalle tende ed è impossibile dormire fino a tardi. Per questo ho ristrutturato la mia morning routine seguendo il mio corpo e seguendo la natura anche che si risveglia, in modo che tutto sia un po' in linea, in equilibrio nella mia vita. Ci tengo a premettere che non tutte le mie mattine sono così, non tutte le mattine riesco ad alzarmi presto alle 5 e mezza e dipende molto dall'ora alla quale vado a dormire la sera prima. Infatti, per esempio, tutti i giovedì vado a vela e torno a casa molto tardi perché stiamo fuori in mare, in barca per diverse ore, quindi magari torno a casa a mezzanotte e sicuramente non mi alzo alle 5 e mezza, oppure magari ho qualche evento con il lavoro, oppure con degli amici. Quindi prendete questo video un po' come una rappresentazione di quella che è la mia morning routine in una giornata normale ed è la morning routine che cerco di mettere in pratica il più possibile, ma non tutti i giorni sono uguali e dobbiamo sempre ascoltare il nostro corpo perché è nel nostro corpo che dovremmo vivere per il resto della nostra vita e io spero che i miei video, oltre ad aiutarvi nell'ambito dello studio, della crescita personale, soprattutto vi ispirino a prendervi cura di voi stessi perché credo che questa sia la cosa più importante di tutte. Di solito mi sveglio tra le 5 e le 5 e mezza, ovviamente se la sera prima sono andata a dormire ad un'ora ragionevole. In questo periodo dell'anno qui a Copenhagen già a quest'ora c'è molta luce, cosa che mi piace molto dell'estate danese. Inizio la mia giornata leggendo un libro per circa mezz'ora, questa volta in questo periodo è testimone inconsapevole di Gianfranco Carofiglio. Dopo aver letto per un po', bevo un caffè oppure un cappuccino a letto e me lo godo in tutto relax, spesso continuando a leggere. Intorno alle 6 mi cambio ed indosso direttamente i vestiti da ginnastica, mi siedo alla scrivania e inizio a studiare. Di solito studio per il mio corso di vela in danese oppure vocaboli danesi oppure per il corso di diritto che seguo in relazione al mio lavoro. Continuo a studiare di solito fino alle 8. dalle 8 alle 9 dedico un'ora al mio benessere fisico, principalmente facendo sport. Quando il tempo è bello, ultimamente quasi sempre, vado a fare una power walk di circa 6 chilometri nella natura. Altre volte faccio un workout a casa, principalmente di pilates, oppure vado al centro di yoga per fare un'ora di lezione di yoga intenso. Finito l'allenamento, faccio una breve meditazione per assicurarmi che la mia mente sia pronta ad affrontare al meglio la giornata e sia libera da pensieri. Poi mi faccio la doccia, mi preparo velocemente per iniziare a lavorare. Questa morning routine è quella che seguo nei giorni in cui lavoro da casa, in cui mi sistemo in soggiorno oppure sulla scrivania in camera da letto e lavoro sui contratti e faccio riunioni online con i miei colleghi. La morning routine nelle mattine in cui vado in ufficio è diversa perché devo incastrarci 10 chilometri di bici fino all'ufficio dove poi mi faccio la doccia e mi preparo per iniziare a lavorare. Come vi ho detto all'inizio del video, questo è il modo in cui cerco di gestire il mio tempo al mattino, ricavando spazio per la lettura, per l'attività fisica e per lo studio per i miei progetti prima di iniziare a lavorare, perché mi piace molto iniziare a lavorare quando ho già dedicato del tempo a me stessa e credo che sia importante trovare la propria concezione di produttività e io mi sento produttiva quando faccio le cose che mi piacciono ma allo stesso tempo sto bene con me stessa, perché non avrebbe senso fare mille cose con l'ansia e l'angoscia costante, quindi spero che anche voi possiate trovare questo tipo di equilibrio. Fatemi sapere che cosa ne pensate di questo video e se avete richieste per i prossimi video e ricordatevi di seguirmi su Instagram se volete vedere ogni mattina quello che faccio, quali sono le mie attività, iscrivetevi al canale, mettete mi piace, ricordatevi che ho anche un blog al quale vi lascio il link nella description box. Fatemi sapere anche qual è la vostra morning routine, se ci sono cose che fate come le faccio io oppure se svolgete altre attività. Io intanto vi abbraccio forte, vi auguro una buona domenica e una buona settimana e ci vediamo nel prossimo video.